Il ministro è tenuto, se il ministro si rifiuta, esauce dal Parlamento e dunque questa non è più una democrazia parlamentare colleghi, siamo in una democrazia liberale. Vi rendete conto della gravità? Vi rendete conto della gravità di questo rifiuto? No, Presidente, non possiamo far finta di nulla, la Commissione non può condizionare business as usual quando la nostra democrazia oggi è rimessa in discussione da un rifiuto di un ministro di rendicontare il suo operato davanti al Parlamento. È quello che i ministri devono fare, non possono, devono. Collega Pumplini, la ringrazio per il suo intervento, sono certo che il Presidente Fico troverà il modo di far rispettare la Camera dei Deputati e questo non significa affatto che i lavori della Commissione non possano proseguire, le posso assicurare che possono proseguire. Collega Pumplini, chi ha chiesto di intervenire? Allora, no, io ricevo, ricevo, lo ricevo, l'intervento dei commessi, commessi interveniti, allontanate i colleghi del Partito Democratico. Allontanate i colleghi del Partito Democratico dalla Presidenza. Allontanate i colleghi del Partito Democratico dalla Presidenza. Non lo sospenderò la Commissione. Ma ha chiesto di intervenire i colleghi a Iezzi prima di lei? No. 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 No.